Per non dimenticare e chiedere che la giustizia italiana faccia appena luce sulla tragedia del sisma. Con questo spirito, familiari e parenti delle vittime hanno organizzato per il pomeriggio di domani, 30 marzo, dalle 17 davanti all'auditorium del parco, una manifestazione a cui è stato chiesto a tutta la città di partecipare. La data coincide con l'ormai nota, purtroppo, telefonata avvenuta nel 2009, tra l'allora capo della protezione civile Bertolaso e l'assessore regionale alla protezione civile Stati. Una conversazione seguita alla chiamata della Stati, dopo una forte scossa, 4.1, che fu registrata nel pomeriggio all'Aquila, dove da mesi era in atto lo sciame sismico. Bertolaso la rassicurò, preannunciando per il giorno dopo, una riunione della Commissione Grandi Rischi. Un'operazione mediatica, come la definì lo stesso capo di partimento, al telefono, mentre una settimana dopo, alle 3.32, il terremoto distrusse l'Aquila e il suo Interland, portando via con sé 309 anime. Per quella riunione furono processati tutti i sette componenti della Commissione e dopo tre gradi di giudizio, l'unico ad essere stato condannato è stato Bernardo De Bernardinis, all'epoca vice di Bertolaso, che davanti alle telecamere invitò tutti a bere un buon montepulciano, invece di preoccuparsi dello sciame sismico. Parole e sentenze che a sette anni dal terremoto lasciano più che l'amaro in bocca e per questo domani l'Aquila ricorderà tutti cosa è diventata dopo quell'operazione mediatica.